Ciao ragazzi, hanno detto che spesso vi mandate messaggi e mi chiedete consigli sull'amore e sull'atteggiamento, oggi ho deciso di provare a rispondere con un'ottica. Come dico, mi sono fatto aiutare dalla mia fidanzata, Sofia, che saluto, e insieme abbiamo intervistato i massimi esperti, dei grandissimi lavoratori esperti in campo sentimentale.